La linea di ciotole aloa è caratterizzata da colori rivaci e brillanti, un vero tocco di stile brio in cucina e in dispensa. Sono pratiche e utili per tutte le occasioni, conservare, servire, preparare o trasportare i tuoi alimenti preferiti. Sono adatte per le gite fuori porta, al parco, in piscina, ma anche per essere riposte dentro il frigorifero. Sono robuste e durature, dotate di coperche ermetiche e liquidi e facilissime da aprire e chiudere grazie a una comoda linguetta. Lavabili in lavastoviglie, danno l'interno liscio e l'esterno satinato per evitare i gatti. La capacità delle ciotole della linea aloa varia da 450 ml fino a 7,5 litri. Tutte le ciotole sono salvastazie e possono essere riposte una dentro l'altra. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e metti mi piace.